Una donna a White Plains aveva boccato cinque lotti di Mauviu e che succede? Vuole consultare l'avvocato. L'hai lasciata consultare l'avvocato? Che dovevo fare? Non so. Che c'è? Chi è il tizio? Non lo conosco. Vedete che servono le conferenze? A me servono solo i contatti e quelli non ce ne sono. Esatto. Io avevo sempre sul bagnato, è la legge della giugla. Di chi è quella BMW? Sono le sette e mezza. Che cavolo sarà? Dov'eri, Chiroma? Non faccio mica la vaglia. Che vuoi che ne sappia io? Ora fate attenzione un momento. Che problemi avete qui dentro? Si può sapere? Potete avere quello di qualche vendita andata in fumo, di qualche stronzo che non vuole comprare il terreno che gli volete vendere, di qualche figa che non riuscite a farvi, ma parliamo di cose importanti. Ci sono tutti? Ne manca uno. Beh, io procedo. Ora parliamo di cose importanti. Metti giù quel caffè e ascolta. Il caffè è per chi chiude i contratti. Credi che stia scherzando? Io non scherzo con nessuno. Io vengo dalla sede centrale. Rappresento Mitch e Murray. E sono venuto qui perché fate pena. Tu ti chiami Levin? Sì. E ti consideri un venditore, brutto figlio di puttana? Io non ci sto a queste cazzate. Vai pure, amico, perché la buona notizia è che siete licenziati. La brutta notizia è che avete a disposizione soltanto una settimana per riconquistare il posto di lavoro. A partire da stasera, dalle vendite che farete stasera. Fate tutti attenzione adesso. Bene. Abbiamo aggiunto altri premi alla gara delle vendite di questo mese. Voi tutti sapete che il primo premio è una Cadillac Eldorado. Volete vedere qual è il secondo premio? Secondo premio sei coltelli da bistecca. Terzo premio è il licenziamento. Avete capito? Tu ridi ancora? Vi danno i contatti. Mitch e Murray li hanno pagati parecchio. Vedete di sfruttarli, quei nominativi. Se non chiudete coi contatti che avete, se non chiudete un cazzo, se siete dei coglioni, allora fuori dalle palle, sparite perché siete tutti licenziati. I contatti sono scadenti. I contatti sono scadenti. Sono i contatti che sono scadenti. Sei tu che sei scadente. Io faccio questo mestiere da 15. E come ti chiami? Vaffanculo, ecco come mi chiamo. E lo sai perché, amico? Tu sei venuto qui in utilitaria stasera, mentre io ci sono venuto con una BMW da 80.000 dollari. Ecco come mi chiamo. E tu ti chiami venditore scadente. Non sai fare questo mestiere? Non riesci a chiudere i contratti? Allora vattene a casa e sfogati con tua moglie. Perché c'è solo una cosa che conta in questa vita. Farli firmare sulla linea tratteggiata. Avete capito? Branco A. B. C. A. Always. B. I. C. Closing. Always. B. Closing. Chiudere sempre i contratti. A. I. D. A. Attention. Interest. Decision. Action. Attention. Ho la vostra attenzione? Interest. Siete interessati? Lo siete di certo, se no siete finiti. O chiudete oppure ve ne andate a spasso? Decision. Avete deciso che cosa fare della vostra vita? Allora agite. Ai dia, andate e agite. Vi regalano delle opportunità. Volete buttarle via? Uno non riempie un modulo se non vuole comprare. Sono lì che vi aspettano per darvi i loro soldi e voi non li volete. le palle ce le avete o no? È pazzesco. Che cosa c'è amico, eh Moss? Se sei un tale eroe, se sei così ricco, com'è che viene a perdere tempo con un branco di fessi come noi. Vedi questo orologio? Allora lo vedi? Sì. Quell'orologio costa più della tua macchina. Io ho fatto 970.000 dollari l'anno scorso, tu quanto hai fatto? Capisci amico? Ecco chi sono io. E tu non sei niente. Sei una brava persona? Non me ne frega un cazzo. Un buon padre? Vaffanculo a casa tua a giocare coi ragazzini. Volete lavorare qui? Chiudete i contratti. Vi sentite offesi? Vi sentite offesi? Teste di cazzo? Vi sentite umiliati? E non vi sentite umiliati quando non chiudete? Se non vi sta bene, andatevene. Io potrei uscire stasera coi contatti che avete in mano voi e guadagnarmi 15.000 dollari. Stasera, in due ore. E tu? E tu? Andate e fate altrettanto. A I di A. Incazzatevi, figli di puttana, incazzatevi. Sapete cosa ci vuole per vendere beni immobili? Ci vogliono palle d'acciaio per vendere beni immobili. Andate e fate altrettanto. I soldi sono lì che vi aspettano, prendeteli se non lo fate, peggio per voi. Uscite a incontrare i clienti stasera e chiudete. Chiudete e fatevi ricchi, se no dovrete lucidarmi le scarpe. E sapete cosa direte? Quando vi ritroverete con altri falliti al bar. Eh sì, facevo il venditore un tempo. Lavoro infernale. Questi sono i nuovi contatti. Sono i contatti per Glen Gary. Questi per voi sono oro. È un oro che per ora non avrete. Perché? Perché darli a voi equivarrebbe a buttarli via. Le avrà solo chi chiude. Vi augurerei buona fortuna, ma voi buttereste via anche quella. E per tornare alla tua domanda, perché sono qui? Sono venuto perché Mitch e Murray me l'hanno chiesto per favore, ma il vero favore se lo faranno da soli, se seguiranno il mio consiglio e ti sbatteranno in mezzo alla strada. Perché un fallito sarà sempre un fallito. E c'è un mucchio di strozzate. Trattare così la gente. Quando ce ne andrà a far culo? La conferenza di Topolino. Scherzava. Sono sicuro che scherzava sul fatto dei licenziamenti.